Mamma, guarda cosa so fare! Dai, fammi vedere! Sei pronta? Quando ami i panini, si chiama paninofilia. Quando mangi quelli che amano i panini, si chiama paninofilofagia. Se ti spaventa paninofilofagia, si chiama paninofilofagofobia. Se studi paninofilofagofobia, si chiama paninofilofagofobologia. Se sei fissata con la paninofilofagofobologia, si chiama paninofilofagofobologia. Ecco, e poi mi dici che non riesci ad imparare una poesia a scuola.